Ciao ragazze! Ho preso gli ultimi due biglietti per il film! Oh! È solo per me e te, Levi! Scusa, Nancy! Ci vediamo dopo! Beh, scusa, amica! Prendi una caramella! Va bene, piccioncini! Andate pure al cinema! Io vi organizzo qualche scherzo! Ciao! Ecco il mio biglietto! Sciogli le gomme da masticare nel microonde Aggiungi un colorante alimentare Estendi la gomma da masticare in uno strato sottile Ritaglia un biglietto Aggiungi i dettagli con un pennarello per alimenti C'è qualcosa che non va in questo biglietto È elastico come una gomma! Come si strappa? Grazie, vado dentro! Che schifo! Che disastro appiccicoso! Tutti stanno filmando una copia del film sui telefoni Tranne Levi Sei in arresto per aver filmato illegalmente il film Ma non stavo facendo niente! Fico! Ora c'è un posto per me Filmerò questo film sul mio telefono Fantastico, ragazzi! Quello è un burlone, non un poliziotto Ecco la mia cliente! Patatine, per favore! Certo, ecco a te! Scusa, devo proprio andare Ecco, le prendo io! Grazie! Gentilissima! Ok, posso averne un altro? Oh, peccato che uno sconosciuto sia caduto nel mio scherzo! Togli le patatine dalla confezione Taglia due strisce di cartone Incollale ad angolo retto E piegale per creare una molla Incolla un cerchio di cartone sulla molla Inserisci la molla nel tubo vuoto Mettici sopra le patatine fritte e metti il tappo Film e patatine sono una combinazione perfetta! Che succede? Oh no, le patatine sono saltate fuori Non lascerò correre Congratulazioni, sei il milionesimo cliente del nostro cinema Hai vinto biglietti gratis per un anno Evviva! Wow, è per me? Grazie! Levi, svegliati! È per te! Vai a prendere il tuo premio Allora? Dov'è il mio premio? Mi hanno detto di andare all'ingresso Cosa ho vinto? Dove sono i miei biglietti gratuiti? C'è solo Coca-Cola Ne vuoi un po'? Fantastico, ecco un posto libero Levi ha vinto un altro scherzo Vorrei dei popcorn e una Coca-Cola Ehi, mi senti? Popcorn e Coca-Cola, per favore Che servizio terribile! La pausa pranzo è finita Come posso aiutarti? Coca-Cola e popcorn? Ecco! Devo uscire un attimo Torno subito Eccomi! Levi, che film interessante! Cosa? Levi, chi è questa? Con chi stai parlando? Ups! Ellie, pensavo fossi tu! Ma com'è possibile? Levi, come hai potuto? Esco un attimo e già abbracci un'altra ragazza! Traditore! Cosa? Sono confuso E le patatine sono finite Posso avere dei popcorn? Per favore, in fretta! Certo! Ecco il tuo popcorn speciale Buon film! Ellie, ecco i popcorn! Mi sono perso molto? E questo cos'è? Un dito Non l'ho ordinato! Un dito! Che succede? Il film deve averla spaventata Volate e invadete il cinema Miei serpenti di gomma in mille piedi Aiuto! Bello! Ora c'è un film solo per me e il mio serpentello Ecco la giacca! Ed ecco il mio cliente! Mi sembra di conoscerla! Ecco la sua targhetta! Riempi uno stampo rotondo piatto con acqua Inserisci un numero stampato su carta da zucchero Coprilo con acqua E congela Nel frattempo l'etichetta si è sciolta nella tasca di Ellie Oh no! Che imbarazzo! I miei pantaloni sono bagnati! E la targhetta si è sciolta! Devo andare in bagno L'igiene è importante Ehi! Cosa c'è che non vai in questo sapone? È un po' strano! Versa la colla Elmer trasparente in un flacone di sapone liquido con dispenser Aggiungi il colorante rosso E mescola bene Versa l'olio vegetale in un altro contenitore Aggiungi il colorante giallo E attacca etichette per sapone con diverse fragranze Che schifo! Sembra che ci sia olio al posto del sapone Ora le mie mani sono tutte unte Proverò a lavarle con un sapone diverso Eccola! Oh cosa! Mi si appiccica tutto! Ho dei tovaglioli di carta al posto dei popcorn Ehi Ellie! Ti sei divertita a lavarti le mani? Che film emozionante! Sono super preoccupata per il protagonista Vico! Devo solo attaccare del nastro adesivo al tuo sedile Ellie Sono così nervosa! Vado a prendere un po' d'aria fresca La mia gonna! Come posso aiutarla? Vorrei delle patatine No, biscotti! No, non questi! Quelli! Signora, si può sbrigare? Siamo in ritardo per il film! Oh, potrebbe volerci un'eternità! Si sbrighi! Voglio quella! No, l'altra! Quella a destra! No, a sinistra! Un po' più in basso! No, un po' più in alto! Porca vacca! È passata un'ora! Volevo solo la Coca-Cola! Grazie, cara! Finalmente! Oh, aspetta! Ho dimenticato il resto! Che stupida! Grazie, piccola! Signorina, non puoi entrare con le scarpe sporche! Ho appena lavato il pavimento! Ecco, metta i copriscarpe! Bene, grazie! Beh, un paio anche a me! Oh, cavolo! Il mio scherzo perfetto è andato a un'altra persona! Cos'hanno le mie scarpe da ginnastica? Sembrano vittime di un crimine! È tutta colpa dei copriscarpe! Posso avere gli occhiali? Grazie! E qui metto quelli per il mio amico Levi! Taglia i dettagli in plastica nera da mettere sulle lenti degli occhiali! Attacca la plastica all'interno degli occhiali 3D! Prendiamo gli occhiali! Grazie! A quanto pare gli effetti speciali sono sorprendenti in questo film! È il miglior 3D di sempre! Che c'è? Vedono tutti scuro? Io non vedo niente! Cos'hanno i miei occhiali? Ehi, Ellie! Perché ridi? I miei occhiali sono rotti! Non mi piace questo film! Non litighiamo più! Amici per sempre! Posso avere dei pop-corn? Certo, ragazze! Ecco! E un altro! Posso averne uno più piccolo? Io più grande! Certo! Tutto quello che volete! Taglia dei pezzi di cartone e fai un secchiello! Coloralo con vernice acrilica! Versa il pop-corn! E aggiungi una mini-etichetta! Fai un secchiello grande per pop-corn allo stesso modo! Il tuo micro-pop-corn! Oh, è minuscolo! È perfetto! Perché sto cercando di perdere peso! E una porzione gigante per te! Bastano? Oh sì! Adoro i pop-corn! Fregate! Questa è la mia vendetta per tutti gli scherzi! Ehi! Chi sei? Io lavoro qui! Questo pop-corn basterà per tutto il film! Cos'è? Piume! Ma dove sono i miei pop-corn? Che imbrogliona! Ma perché il secchio è così grande? Nancy, non preoccuparti! Vuoi un po' dei miei pop-corn? È infinito! A quanto pare ci sono più pop-corn di quanti pensassi! Sono così piena! Nancy, giù le mani! Non vedi la mia piccola porzione? Ti sono piaciuti i nostri scherzi da film? Scrivi qui sotto che scherzi faresti al cinema! Intrufoleresti degli insetti? Faresti un biglietto con la gomma? O ti vestiresti come una vecchietta? E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i nuovi spassosi scherzi di Troom Troom!